Siamo in provincia di Agrigento! Siamo a Sciacca! Andiamo in giro per la città. Tutto è in salita Sciacca. Non arrivo sera. Il castello è chiuso però si può fare l'aperitivo ma apre alle 19. La cattedrale staserada. Non era la cattedrale, siamo sbagliati. Chiesa di San Domenico. Una piazza enorme Sciacca! Mamma mia! E' questa la cattedrale, è aperta! La cattedrale è la cattedrale! Porta Palermo con sale e antiche porteline. Porta Palermo con sale e antiche porteline. Sono tutti a messa perché c'è il nuovo parco! Poi dopo chi si fa più vedere? Ciao bello! Abbiamo fatto praticamente due chilometri di strada per arrivare qua perché qua c'è la granita buona della Sicilia! Questo è il signor Aurelio in persona! E col panino pane panelle ci salutiamo da Sciacca! Ciao! Ciao! Ciao!